La casa del popolo di Teramo ha avviato una raccolta fondi per riportare Ablai a casa il gambiano di 26 anni morto nella vecchia palazzina abbandonata in via lungo i primi di dicembre insieme alla 46enne terramana Alessia Sardella per le esalazioni di monossido sprigionate da un bracere acceso dentro una stanza per riscaldarsi. Gli attivisti hanno avviato una raccolta fondi per riportare la salma che è ancora all'obbitorio di Teramo in Gambia dai suoi genitori. Siccome è casa del popolo avviamo questa raccolta fondi grazie all'interessamento della comunità del Gambia perché Ablai era del Gambia. Purtroppo non c'è una legislazione che obbliga i paesi e appunto il Gambia a riportare le salme dei loro morti nel loro paese e quindi noi ci siamo impegnati attraverso appunto la comunità del Gambia, la società civile di Teramo in questa raccolta fondi. Una raccolta fondi molto onerosa, sono circa 4.800 euro necessari per riportare la salma dai suoi genitori e quindi noi abbiamo raccolto questo appello. Un progetto solidale avviato in collaborazione con la società civile di Teramo. Sulla pagina Facebook La Casa del Popolo Teramo ci sono tutti i riferimenti per effettuare le donazioni. La mia presenza qui vuole essere un segnale di solidarietà a quanto è accaduto in quanto credo che nessuno possa delegare o demandare davanti a queste situazioni. Credo che prima di puntare il dito ad eventuali responsabili bisogna partire da noi stessi e ognuno fare la propria parte. Per cui chiedo personalmente alla città di Teramo di dare un segnale di presenza donando per quel che si può un segno di vicinanza ad Ablai e alla famiglia affinché possano riavere la sua salma a casa. Presenti all'incontro con la stampa anche alcuni amici di Ablai e il cugino da anni a Teramo. Noi stiamo cercando l'aiuto per portare il corpo a casa. Ablai è un molto bravo ragazzo però è arrivato qui in Italia. Prima tutto sta andando bene però mi succede un casino. Noi vogliamo portare lui a casa se le persone possono aiutare noi.